Ciao, sono Fabiana, ho 23 anni e vengo da Bari. A che età ho toccato la mia prima padella? Penso a 9-10 anni. Ho sempre cucinato con la nonna fin da piccola, quindi l'ho sempre affiancata e mettere le mani in pasta, le mani in fornelli mi è sempre piaciuto. Credo sia stata con lei la prima volta. Un esperimento che ho fatto è stato il panettone un po' di anni fa, era la prima volta che lo facevo e non è cresciuto per niente. Il piatto che uso per conquistare? Spaghetti alle cime di rapa. La parola che dico più spesso, ma do. Quando cucino ascolto molta musica, canto un po' meno. Ascolto molto spesso Calcutta. Vestiti come ti pare, mettiti tutto il profumo che io posso adorare. Vorrei approfondire la cucina giapponese, perché sono molto interessata al loro utilizzo della materia prima. Il sapore più strano fino ad adesso che ho assaggiato, in quanto più che altro per la consistenza, è stata la trippa. Se trovassi davanti a me uno che mette l'ananas sulla pizza, cosa direi? Fuori dai c***oni. Se un cliente nel mio ristorante ordinasse una carbonara con la panna, la mia risposta sarebbe di nuovo fuori dai c***oni.